Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Ready Game Channel Io sono Tommy Tori, oggi sono da solo Dark e non c'è E sono qui con un video veloce quanto lo schiocco di dita che non sono riuscito a fare Perché ho la mano destra impegnata a mantenere l'iPad per registrare Cosa pensavate? Bastardi Comunque a parte le cassate oggi sono qui per illustrarvi cosa è successo E cosa è stato aggiunto in questo nuovo aggiornamento di Clash of Clans Avvenuto nel giorno 24 ottobre, penso, 2014, non ne sono tanto sicuro Comunque a parte le cassate ho letto molti post su Facebook E mi sono anche arrivati dei messaggi che dicevano Tommy Dark ma che cazzo è successo in questo aggiornamento? Non ho capito Essenzialmente la risposta non devo manco darvela io C'è scritta nella sezione notizie Ma io ve la riassumo proprio velocemente Essenzialmente Clash of Clans, l'app di Clash of Clans Non l'abbiamo comprata noi Quindi non è che sta diventato tutto rosso perché l'hanno comprata ai Red Essenzialmente fa parte di un progetto che penso si chiama il Red Project Finanziato essenzialmente, non finanziato, però attuato essenzialmente Dall'app store e da questa azienda di beneficenza che si chiama Red Questo progetto consiste in una serie di app gratuite e a pagamento I quali ricavi, dunque possono essere dati sia dall'acquisto dell'app stessa Sia dagli acquisti in app nel caso di Clash of Clans Poi vi lascio vedere Verranno devoluti ovviamente in percentuale a questa associazione Che si occupa, ovviamente tramite le donazioni di terze parti Che saremmo io, voi, noi, voi essi Di lottare contro l'AIDS Comunque penso nelle regioni africane del mondo Perché penso che l'AIDS comunque sia concentrata soprattutto lì Dunque, sintetizzando il Clash of Clans Che caso è stato aggiunto? Questa cosa qui La pila di gemme è diventata rossa Infatti, qualora andresti a comprarla, 4,50 Questi 4,50 verrebbero devoluti Penso che si dica così Al 100% a questa azienda che si chiama Red E purtroppo non siamo noi Cioè, mi piacerebbe sul serio Cioè, probabilmente ora sarei già Alle Hawaii, ai Caraibi Insieme a Darkin Hotel a 8000 stelle Probabilmente quell'hotel me lo sarei pure comprato Comunque, a parte le cazzate Prima di chiudere il video Vi dico anche una chicca proprio così Veloce Ovvero, se comprate la pila di gemme Essenzialmente fate beneficenza Fate questa donazione La Supercell vi ricompenserà E voi starete pensando Ma cazzo delle gemme bonus Una cosa figa È una cosa figa più o meno Infatti, essenzialmente si tratta di uno scudo Di una specie di emblema che si andrà a posizionare Sopra la chiave di volta dell'arco A tutto sesto che funge da porta nel vostro municipio Non avete capito un cazzo? Non fa niente Ve lo faccio vedere Infatti, probabilmente lo starete vedendo ora È una cosa abbastanza figa E si può, essenzialmente, usufruire di questa cosa Fino all'8 dicembre Per far vedere che ce l'avete lungo Che siete ricchi Che avete donato 4,50 euro Mamma mia E, insomma, tutte queste belle cosine Dunque, io, ragazzi Non vi posso che invitare, ovviamente A donare Qualora questi argomenti vi interessassero O meglio Qualora avreste la disponibilità economica Perché capisco Che magari non tutti ce l'hanno Non tutti hanno 4,50 euro Sulla carta di credito Perché è quello il vero problema E dunque Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Commentate e scritte Le vostre opinioni Su questa campagna di crowdfunding Si chiama così No, vabbè Di beneficenza Non ne ho idea Perché ho letto Dei commenti su Facebook Veramente Aghiaccianti Cioè, vi lascio lo screen Non posso neanche dire Ciò che ha detto questo tizio Perché è una cosa Esageratamente Stupida Cioè, è una cosa incredibile Comunque Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Bella a tutti Da Tommy Thor Bella